La prostituzione è una piaga atavica della zona della Pineta di Pescara ma ora denuncia il capogruppo di FLIA al comune di Pescara Massimiliano Pignoli. Il fenomeno è del tutto fuori controllo. A sollecitare l'intervento del consigliere comunale alcuni residenti stanchi di vedere ripetersi la sera come al mattino le stesse scene, donne in abiti succinti che aspettano clienti lungo via della bonifica. Per questo si chiede un intervento massiccio delle forze dell'ordine che possa porre un freno al problema. La prossima settimana o questa settimana dipenderà dal prefetto quando vorrà darmi un appuntamento. Mi regnerò dal prefetto perché è giusto che lui debba sapere la situazione e che si debba arrivare a una risoluzione immediata e specifica del problema. Qual è la questione? Che ci vuole più presenza delle forze dell'ordine. Anche la polizia municipale dovrà fare la sua parte perché dove c'è la forza pubblica che presiede costantemente il territorio ovviamente queste signore non fanno più il loro lavoro e vanno via. Il Borezito è uno dei residenti qui della zona di Via della Bonifica. Insomma un problema quello della prostituzione che qui è sempre stato presente però si sta accentuando sempre di più. Sì esattamente sono della zona stadio quindi chi meglio di me può sapere qual è il problema che ormai attanaglia la città di Pescara da una vita, cioè praticamente da quasi da quando sono nato per cui speriamo di risolvere questo problema in collaborazione soprattutto con l'azione effettiva della prefettura. Pignoli boccia l'idea del sindaco di Montesilvano dei box del sesso. Per lui l'unica strada resta quella della repressione delle forze di polizia. Come voi sapete io sono un cattolico prestato alla politica per cui assolutamente sono contro la prostituzione ma dietro alla prostituzione voi sapete che c'è ben altro, c'è un'organizzazione ovviamente importante di persone che usano queste donnine anche per scopi di lucro abbastanza importanti.